In estate si pensa alla vacanza, al mare, alla montagna, a fare dei viaggi, e perché no, anche a camminare tanto, magari anche a fare un po' di sport. Ma come si fa invece quando si soffre di mal di schiena? Come si può curare e prevenire sia quando è un mal di schiena, chiamiamolo cronico, sia quando invece ci colpisce all'improvviso come il colpo della strega? E allora non vi preoccupate perché oggi abbiamo le soluzioni a questo problema e le chiediamo alla dottoressa Chiara Prudente, che è fisioterapista e docente del Master di Primo Livello in Neuroriabilitazione Muscoloscheletrica all'Università Sapienza di Roma. Benvenuta, dottoressa. Ringrazio e saluto anche la sua paziente, la signora Teresa. Allora, dottoressa, abbiamo detto che ne soffriamo un po' tutti perché può capitare il dolore improvviso ma può capitare anche il dolore invece cronico che quindi si perpetua nel tempo. Ecco, ma partiamo dalle cause. Quali sono le cause di un dolore improvviso e quali invece possono essere le cause che si protraggono purtroppo, protraggono il dolore nel tempo? Esatto. Il mal di schiena è infatti a più cause, può avere più cause. Una delle quali è la sofferenza del disco intervertebrale, il quale è proprio quella struttura, come possiamo vedere anche dal modellino, è quella struttura che è interposta tra una vertebra e l'altra. Ebbene, al centro di questo disco, che è più o meno costituito da fibrocartilagine, c'è una parte più morbida che si chiama nucleo polposo. Quando questo nucleo polposo, in seguito a vari stress o comunque in seguito ai nostri movimenti, durante i movimenti che ognuno di noi compie nella giornata, questo nucleo polposo si sposta. Ha una funzione di ammortizzare tutti i carichi che vengono dall'alto, ma anche tutte le forze sul piano trasverso che vengono proprio a spingere su questo disco intervertebrale. Quando il disco subisce eccessivi stress e quindi la resistenza dei tessuti diminuisce rispetto allo stress che viene dall'esterno, questo disco si rompe e quindi può far fuoriuscire questo materiale e dare origine a quella che è l'ernia, come possiamo vedere per esempio in questo modellino segnato di rosso. Però, dottoressa, quando il dolore diventa costante e quindi quotidiano e diventa veramente una sofferenza, l'unica possibilità immediata che abbiamo è quella di rivolgerci appunto al fisioterapista. In che modo il fisioterapista ci viene in aiuto? Magari anche visto che approfittiamo della paziente, della signora Teresa, per farci vedere quali sono i trattamenti che si possono fare per subito. Allora, il fisioterapista ovviamente può aiutare il paziente dopo un'attenta valutazione di quali possono essere state le cause e soprattutto qual è il problema in corso, cercare di decomprimere proprio in seguito alla presenza ad esempio di un'ernia, cercare di decomprimere la pressione che questa ernia o protrusione può esercitare sul nervo e quindi provocare dolore. Quindi proprio fisicamente con le mani? La prima cosa da fare, sì, è andare a tastare per cercare di capire dove è localizzato il dolore, per fare una decompressione, mettere le mani in questo modo e cominciare ad esercitare proprio una pressione verso il basso che così facendo quindi eseguire una manovra proprio di decompressione, di tipo meccanico. E c'è anche un'altra manovra, un altro trattamento che invece è di stabilizzazione, giusto? Sì, per quanto riguarda gli esercizi di stabilizzazione invece il paziente viene posizionato su pino e quindi è possibile fare degli esercizi in cui si va a creare più stabilità sull'addome ad esempio e quindi si possono utilizzare gli arti superiori o gli arti inferiori, in questo caso noi possiamo cercare di andare a irradiare i muscoli del tronco senza muovere la colonna vertebrale. Ad esempio facendoci contrapporre dalla forza del paziente, io chiederò di portare le braccia verso il basso, ovviamente questa cosa viene impedita, viene ostacolata in modo che lei vada a contrarre i muscoli dell'addome per andare a dare più stabilità alla colonna vertebrale. Dottoressa, io do spazio ad una domanda che ci ha scritto un nostro telespettatore, il signor Marco Damassa che chiede, con il colpo della strega conviene stare completamente a riposo o si può fare qualcosa? Perché anche il colpo della strega, ahimè, colpisce molti di noi. Allora, nelle fasi e in caso di emergenza, e quindi che fare a casa nel momento in cui arriva il colpo della strega che è quella situazione in cui la colonna vertebrale è completamente bloccata, a volte non si riescono a muovere neanche gli occhi. Ebbene, chiediamo al paziente, quindi possiamo suggerire di mettersi proni, quindi pancia sotto, possibilmente posizionando un cuscino sotto la pancia e quindi questo permetterà alla colonna vertebrale nella fase iniziale di essere più rettilinizzata. Quindi questa è una cosa che va fatta subito? Subito, può essere fatta subito, assolutamente, perché questa è sicuramente una posizione antalgica, cioè consente di alleggerire la pressione da parte del disco sul nervo. Quanto tempo più o meno dobbiamo stare? Dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora, in cui il paziente comincia ad avvertire, anche facendo dei respiri, avverte un alleggerimento della sintomatologia, si può sfilare il cuscino dalla pancia e restare così semplicemente proni. Così facendo si comincia a formare quella che si chiama l'ordosi lombare. E' questo appunto il primo sollievo, ma noi non ci fermiamo qui perché dobbiamo parlare ancora di prevenzione e di cura anche e soprattutto appunto quando poi il dolore diventa cronico e soprattutto di posture, di esercizi che si possono fare a casa. Ma ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria. Tutto questo subito dopo, quindi restate con noi. Il tempo di bere un bicchiere d'acqua e ritorniamo. Stiamo parlando di mal di schiena, questo dolore che purtroppo in tanti soffriamo sia d'inverno che d'estate, a maggior ragione d'estate e lo stiamo facendo perché stiamo cercando di trovare le soluzioni con la dottoressa Chiara Prudente che è fisioterapista e insieme alla sua paziente la signora Teresa che ci sta facendo vedere proprio anche degli esercizi che si possono fare. Allora dottoressa, partiamo anche qui da un presupposto. Il mal di schiena si può curare già a partire dalla nostra postura, giusto? Esatto. In questo caso, anche stando seduti, che cosa possiamo fare per alleviare il dolore? La postura è fondamentale, da mantenere corrette, soprattutto da salvaguardare le curve fisiologiche della nostra colonna vertebrale che sono la lordosi cervicale, cifosi dorsale e lordosi lombare. La maggior parte del tempo della giornata si passa da seduti e quindi è importante che questa curva, cioè la lordosi lombare, venga conservata e sostenuta. Ci possiamo avvalere di un cuscino circolare o cilindrico. Dovremmo prenderla proprio come un'abitudine. Dovremmo prenderla come abitudine perché è impossibile che un soggetto resti sempre in posizione eretta correttamente tutta la giornata. Quindi ha bisogno di supporti. E ci possiamo avvalere di cuscini che vanno posizionati, ad esempio, come in questo caso, sulla sedia e proprio in corrispondenza della colonna vertebrale a livello lombare. In modo che questo cuscino vada a sostenere, a compensare quel vuoto che si crea spesso tra la sedia e il corpo. E scarica quindi il peso. E quindi scarica e mantiene i dischi intervertebrali paralleli tra di loro. Però, dottoressa, io ho già parlato di esercizi. E ho detto, quindi vorremmo dare ai nostri telespettatori a casa, ho detto che vi daremo delle soluzioni. Una di queste sono appunto degli esercizi semplici che possiamo provare a fare anche da soli. Con attenzione, ovviamente. Quali sono questi esercizi, dottoressa? Diciamo che il paziente, prima di fare degli esercizi, soprattutto dopo la fase acuta, va preparato attraverso una rielasticizzazione muscolare. E quindi, grazie all'aiuto del fisioterapista, che per esempio potrebbe andare ad allungare dei muscoli, quelli più sofferenti, che sono quelli posteriori della gamba, come i muscoli ischiocrurali o il bicipite femorale, chiedendo al paziente partecipazione e collaborazione per far contrarre prima questo muscolo, ad esempio, e poi cercando di allungare. Quindi questi sono esercizi di allungamento? Di allungamento. Come per esempio un altro muscolo che è spesso contratto, il muscolo medio gluteo. Tra l'altro sono muscoli attraverso i quali il nervo sciatico sono attraversati, quindi ci passa all'interno. Anche qui noi possiamo chiedere alla paziente, intanto portando in allungamento, quindi in uno stato di piccola tensione, il muscolo, chiederemo alla paziente di spingere contro di noi, mantenere la contrazione per tot secondi e poi andare ad allungare. Questi esercizi, però, dottoressa, diciamolo anche ai nostri telespettatori, si possono fare anche in presenza di dolore o bisogna aspettare che il dolore acuto passi? Come dicevamo prima, no. Una volta che la fase acuta è passata, si comincia a riabilitare i muscoli e quindi il tronco e anche la colonna vertebrale a recuperare poi il movimento, quindi superata la fase acuta. Quindi procedere con gli allungamenti muscolari e poi esercizi di reclutamento. Un esercizio invece che si può fare in totale autonomia, quale può essere? Infatti, proprio in questa fase di reclutamento, quindi dopo aver allungato questi muscoli e resi più elastici, sono già in grado di contrarsi meglio. Per esempio, un esercizio è il ponte, quello in cui si chiede al paziente di sollevare il bacino. Questo esercizio fa lavorare molto i muscoli glutei e i muscoli posteriori delle gambe, dando molto sollievo alla colonna vertebrale. Ovviamente, dottoressa, questo finché si riesce a fare, cioè senza esagerare e senza sentire dolore. Certo, certo. Poche ripetizioni, sono facilmente seguibili, servono per incominciare a dare più stabilità ai muscoli e che favoriranno quindi una maggiore stabilità vertebrale. Andiamo alla prevenzione, perché va bene la cura, però dobbiamo cercare di prevenire. Qual è un esercizio o un'attività che possiamo fare per prevenire? Una posizione che i pazienti potrebbero assumere, quella a pancia sotto, detta anche posizione della sfinge, è una posizione ovviamente senza dolore, quindi in assenza di dolore, parliamo della fase preventiva. Il mantenere questa posizione anche per pochi secondi a fine giornata sarebbe una buona pratica per poter prevenire il mal di schiena, come per esempio anche in piedi. Ecco, andiamo incontro a delle giornate soprattutto all'aria aperta, perché passiamo molto più tempo in estate fuori. Che altro esercizio si può fare? Un altro esercizio che si fa in maniera molto estemporanea ma alleggerisce moltissimo dal peso lombare è quello di estensione, dove si mettono le mani posizionate a livello lombare e si chiede al paziente di fare un'estensione a livello proprio vertebrale del rachide lombare dove si può eseguire questo movimento, si può fare eseguire questo movimento una decina di volte, più volte durante la giornata. Questo sotto un bell'albero all'ombra si fa benissimo anche in compagnia. E invece se volessimo dare dei consigli ai nostri telespettatori per vivere un'estate in attenzione, in prevenzione di un possibile dolore alla schiena. Nella pratica quotidiana l'incidenza del mal di schiena magari si vede, si osserva più durante l'estate perché magari si sta più tempo seduti al mare, magari si utilizzano delle sedie non proprio ergonomiche come le spiaggine, quindi possiamo magari evitare di sostare troppo tempo seduti sulla spiaggina e possibilmente mettersi pancia sotto, quindi proni, per alleggerire i dischi e magari utilizzare dei trolley per portare tutto quello che occorre sulla spiaggia e per fare i picnic, certo non caricarsi troppo di pesi. Grazie alla dottoressa Prudente, grazie alla signora Teresa per averci dato tutti questi bellissimi consigli di averci fatto vedere anche come metterli in pratica e a proposito di estate e di sole non possiamo non parlare di attenzione per la nostra pelle.